Grazie a tutti. Tutti i giorni ritengo che questo argomento, il tema di cui oggi noi parleremo, sia purtroppo un tema veramente vivo e scontante per qualsivogna microcosmo civile. Grazie a tutti. E' una riflessione interlocutoria, già il titolo secondo me sintomatico. Discutere, parlare, dialogare. Il senso filosofico di questo avvento è della necessità di riflettere coralmente, non più da soli, intorno a mali che si rivelano nella tragica cronaca quotidiana, come fonte esauribile di eventi tremendi e luttuosi, che purtroppo vanno molto al di là della cronaca dei nostri giorni e hanno radici lontanissime. Questi eventi, questi fatti, secondo me si radicano in una maniera e in un modo in cui l'uomo vive insieme agli altri. Perché io, tipo, parlando con voi, vivendo con voi, ho pensato che questa occasione andava colta, senza esitazioni. Voi potete dirmi che pregiudizi non le nutrite. Voi potreste affermare che nessuna forma di razzismo serveggia in voi. Voi potreste con altrettanta fierezza dichiararmi che non siete assolutamente sensibili a nessuna forma di ghettizzazione, di emarginazione, né sociale, né culturale, né sessuale. Ma chiunque di voi dichiari questo non dice il vero. Io sono entrata in classi in cui i banchi erano posizionati in due ali separate, due ali, il centro nuoto, vacante. Perché le due ali rappresentavano la separazione e la divisione di un gruppo in cui pochissimi aspiravano a diventare al vie di modello e la maggior parte dei ragazzi stentava a trovare le ragioni di un impegno personale e collettivo. Ho visto classi in cui alcuni alunni più problematici di altri hanno stentato a trovare solidarietà e d'aiuto perché sono stati considerati come ingiustamente privilegiati anche se oggettivamente in quel momento forse tanto privilegiati non erano. ho visto classi in cui l'estrazione sociale dei componenti era chiaramente visibile dalla postazione dei giovani da una parte i più abbienti quelli vestiti meglio dettinate alla moda dall'altra le persone che vengono da lontano qualche volta dall'altra ho visto pure persone di colore ho visto classi in cui un ragazzo o una ragazza palesemente incline ad una sessualità non ordinaria vive ogni giorno con il sottile peso dello schermo dell'isolamento ho letto post su facebook che riguardavano alcuni di voi il loro aspetto fisico l'essere grassi o magri ricchi o poveri puliti e profumati o sporchi e cattivi naturalmente questo io mi auguro che sia solo un aspetto inquietante certo del problematico rapporto che c'è tra il mondo in cui noi viviamo e questo schema mentale astratto che noi coltiviamo di una pseudonormalità cui tutti dovremmo allinearci ed ambire un grande scrittore che qualcuno di voi avrà letto Pierpaolo Pasolini scriveva in anni lontanissimi negli anni settanta in cui sembrava che proprio l'universo giovanile fosse ormai mutato definitivamente che spazio per alcune ghettizzazioni non ce ne fosse più l'amore libero una sessualità riconosciuta la lotta politica e sociale del movimento studentesco ma lui era un omosessuale lui non era un allineato pur avendo parteggiato per il partito comunista per molto tempo lui era un diverso e sapeva di esserlo e la fine di Pierpaolo Pasolini né testimonianza poche parole poi lascio la voce ai relatori che avranno sicuramente cose più sensate di me da dire ora degli italiani piccolo borghesi si sentono tranquilli davanti a ogni forma di scandalo se questo scandalo ha dietro una qualsiasi forma di opinione politica o di potere perché essi si riconoscono subito in tale scandalo una possibilità di istituzionalizzazione e con questa possibilità essi fraternizzano di fronte invece allo scandalo di un uomo debole e solo essi provano dello scandalo tutto il terrore si scatenano in essi liberamente vecchie ancestrali aggressività ignote certamente a loro stessi e quindi condannano a cuor leggero perché lo scandalo è scandalo così come era scandalo vivente per le ss ebrei polacchi comunisti pederasti e zingari in italia esistono tuttora insomma quelle che Himmler ha definito una volta per tutte vite in legge di essere vissute e la sua vita è stata stroncata proprio da quest'unus in cui la violenza è lievitata ancora a Roma di due giorni fa era notizia di due immigrati che hanno trovato la morte in un rovo in un rovo che consegue ad un ride cioè ad una aggressione di gruppo nei confronti di uomini e di donne che vivono per strada l'universo di quelli che noi chiamiamo crociar con un termine che io non ho capito perché sembra addirittura bohemian è un universo abissale e orrendo che è anche il segno dell'incapacità di inclusione della nostra società e contro questi uomini di queste donne un gruppo di giovani armati ha indirizzato una spedizione comitiva il numero degli scomparsi dei desa parisidos delle nostre città è sempre più elevato qualche volta noi non sappiamo quanti muoiono specie se questo avviene a Rosarno dove i neri non sono registrati per le strade dove non sappiamo quanti esseri viventi vivano e allora interlochiamoci pure parliamo e se c'è qualche pregiudizio da sbagliare questo può essere uno dei luoghi in cui all'ignoranza alla proterbia alla violenza e anche alla paura a quella paura che Ottavio cerchi di ci ci va a essere caratteristica dell'uomo di dimora nei confronti del viandante noi siamo uomini di dimora difesi dalle nostre case protette e nei confronti degli andanti proviamo lo stesso orrore che Pasolini dichiarava essere a monte del rischio che il razzismo ritorni che il razzismo cerveggi che il razzismo sia dentro di noi doloroso forse sì ma siete sufficientemente adulti per tollerare il peso di quello che vi stiamo consegnando e ripeto per aprire la mente e il cuore e abbracciare nuovi progetti esistenziali che scludano ogni forma di pregiudizio grazie Grazie. Grazie a tutti. 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 di luminismo, che è conosciuto l'umanesimo, il rischio di cadere invece in una condizione di isolamento, in una condizione di grattezza è forte e noi abbiamo provato a dire che alcune cose si possono superare parlando insieme, con la coscienza collettiva, discutendo, mettendo insieme ragionamenti e mettendo insieme delle realtà che discutono ogni giorno, su questi concetti. Allora abbiamo provato a dire che si poteva fare, che si può fare una discussione con gli studenti, partire anche da alcuni ragionamenti che possono sembrare forti e che sembrano quasi distanti dal ruolo che la CGL fa ogni giorno. La CGL deve difendere i lavoratori, è vero, ma se in un posto di lavoro si consumano dei razzismi e si consumano degli isolamenti, quella cosa è vera sia nella società, appunto, a maggior ragione sul lavoro e a maggior ragione nel mondo e nella condizione di lavoratore sul futuro. Se io sono isolato perché gay, se io sono isolato perché immigrato, vero isolato sia nella società sia sul mio posto di lavoro, questo implica un problema, una difficoltà anche per noi come organizzazioni sindacali. Se sono isolato in quanto donna, perché vengo considerato dentro la società come appunto, insomma, se dentro la mia società vengo considerata un essere, diciamo, interiore, tra cui voglio estremizzare, perché voglio dire, o comunque una proprietà dell'altro genere, se si pensa al femminicidio, al tema del femminicidio in questo paese e per fortuna anche nel mondo c'è un'attenzione particolare. Questa condizione naturalmente non vi renderà liberi neanche da lavoratori, da adulti, nella società che costruiremo insieme. E allora ci sono dei problemi per cui questa cosa, insomma, succede e accade. Per esempio sull'orientamento sessuale io credo, insomma, che i problemi che ci possono essere a quest'età, a questi livelli, possono essere problemi che nascono più dalla paura che da altro. Dalla paura di vivere una fase della vita in cui tu cambi e non capisci cosa ti sta succedendo e dovrebbe essere, diciamo, l'istituzione a aiutare noi ad essere migliori. No, lo diceva prima la professoressa De Filippis, ho visto classi separate, ho visto atteggiamenti di separatezza, così come ne ho visti io quando andavo su una scuola. Ne abbiamo visti ognuno di noi. Ma l'istituzione aiutava a cambiare gli atteggiamenti, a creare esseri umani, diciamo, diversi, migliori. E invece confrontandomi con la dottoressa Riccio che è qua, stamattina con noi, mi ha capito che da anni nelle scuole il tema dell'educazione sessuale è sparito. O viene rilegato. Sì, sì, ma non l'accusa alla dirigente. Il tema del tempo scuola, hanno tagliato discipline, hanno unito la geografia e la storia, per due ore settimanali il tempo materiale non c'è più. Sì, sì, ma per l'educazione sessuale, sia per l'educazione sessuale ma per l'educazione in generale. Il tema dell'importanza dell'istruzione, insomma, è un tema che a noi caro, no? E può essere vissuto anche, diciamo, dall'aspetto studentesco come meno male, insomma, studio di meno. Il problema è poi che si creano altre condizioni, cioè si crea meno coscienza collettiva dentro la società. E dicevo, il tema dell'educazione sessuale è un tema importante. Perché di fronte alla propria sessualità si può essere spaventato, si può essere allarmato, non si capisce cosa succede. E poi accadono episodi brutti e noi non siamo partiti anche da questo. Siamo partiti sia da Andrea, il ragazzo di Roma che si suicida perché insomma viene sternito per il pantalone rosa, noi abbiamo fatto un'iniziativa anche su questo, qualche tempo fa, anzi, a cargo proprio di quel evento drammatico. Accade a Reggio Calabria, il quotidiano ne ha parlato ampiamente, Matteo Posenza è qui, è il direttore del quotidiano della Calabria, per una ragazza che viene schermita perché gli viene trovato il video sul telefonino mentre si masturbava. E questa, insomma, questa cosa e questa condizione, capisco che è complicato, ma questa condizione racconta la società di oggi, racconta il fatto che la morale, la morale sulla quale noi ci misuriamo, di questo poi Marco Marchese, così lo sento pure, insomma, mi dà una grande mano, da una grande mano alla Cigella a fare entrare questi temi anche nel mondo del lavoro e dentro la nostra organizzazione, ma lo fa come soggetto impegnato nel mondo civile attraverso l'Associazione Certi Diritti e attraverso l'osservatorio che abbiamo costituito sulle politiche di genere. Dicevo, questi sono atteggiamenti, la smetto qua, in cui la morale personale, la propria morale, viene anacquata con la morale pubblica. Il problema è che si mette davanti la nostra morale personale e viene giudicata, mentre la morale pubblica svanisce, diventa anacquata, tutto è possibile. Tutto quello che sta dentro chi guida la società e chi, appunto, i modelli che ci trasmettono non vengono giudicati moralmente, ad essere giudicati moralmente, ad essere giudicati è la nostra vita, è la nostra sessualità, le nostre idee, il nostro colore, anziché occuparsi di non collettivizzare il dibattito, anziché occuparsi degli altri in termini positivi, cioè in termini di come si può stare bene insieme agli altri, come gli altri aiutano me a crescere. Questo è il periodo che stiamo attraversando, secondo noi, secondo la nostra analisi, secondo il fatto che si siamo messi a costruire questo dibattito. È da qui che partiamo. Cioè parlare ai giovani per noi significa, insomma, tenere accesa la speranza che l'atteggiamento che vive nella nostra società, il fatto che addirittura i governi cadono dalla sera alla mattina senza che, diciamo noi, il popolo, ne possa discutere, essere interessato, perché quella è morale pubblica e quindi, insomma, va da sé, da altri ragionamenti, da altri canali, mentre appunto i dibattiti sulla legalizzazione delle droghe, sulla sessualità, sulla nostra vita, invece, insomma, o addirittura sulla vita stessa. Spesso i dibattiti in questo paese più accesi sono stati quelli sulla liberalizzazione delle droghe da una parte e sulla eutanasia dall'altra, cioè o sull'accordo, eccetera, eccetera, eccetera. E questo paese è riuscito a crescere con delle battaglie in cui la società non è stata indifferente, in cui, anche se non è un mio problema, me ne occupo, almeno idealmente, ne parlo. Faccio sì che a Pia Valene non siano gli altri, perché anche qui ad ognuno di noi, nella nostra società, è richiesto un impegno. Si può stare al centro, pensare che le cose non ci riguardano e poi lamentarsi della società che abbiamo, perché necessariamente anche quando siamo indifferenti scegliamo, scegliamo di non opporci a tutte quelle cose di cui parlavamo e che non abbiamo, appunto, insomma, scelto di contrastare. Io la dico qua e passo la parola a Marco Marchese per le sue considerazioni. Grazie. Beh, per il tutto grazie per essere qui a tutti e a tutti. Io questa mattina sono particolarmente contento perché negli ultimi anni passo da una conferenza all'altra un incontro, però devo dire la verità, quando sono davanti, diciamo, a una materia di studenti, sono particolarmente felice di poter esporre quello che voglio dirvi, confrontarmi e infatti prima di incominciare l'intervento, vi intratterrò 15-18 minuti al massimo, un paio di comunicazioni di servizio. Qui ci sono quattro libri, di cui farò semplicemente degli accenni. Sono consigli di lettura. Consigli di lettura a mio avviso non banali. Io poi dopo, dopo che ve le esporrò, li metterò qui, quindi quando finisce l'incontro, se qualcuno di voi ha piacere di prendere un appunto e magari sceglierne uno e leggerlo, procurarselo e poi dopo leggerlo, sarò lieto. Oppure se volete fare una foto alla copertina con uno di questi fantastici strumenti, voglio dire, fate prima invece dell'appunto e poi ve lo procurate per un leggero. Dopo, dopo, al fine li metterò qui, li lascerò a disposizione. Altra comunicazione di servizio, lì c'è una telecamera, che è la telecamera di liberi tv, non web tv, per cui questo incontro non va sprecato, c'è nel senso che non nasce e non muore nel momento in cui si celebra, vale a dire adesso, però a partire da, fra un paio di giorni, potrà essere fruito e magari con la speranza che potrà fare il giro della vostra pagata Facebook, per cui allargare un po' il bacino di utenza sui temi di cui andiamo a trattare. Io sono Marco Marchese, rappresentato Giuseppe, insieme a lui rego la responsabilità dell'Osservatorio sulle politiche di genere a Pari Opportunità, che è un po' unione fra l'Associazione Certi Diritti e la Cigella, abbiamo stilato un protocollo, abbiamo messo in piedi questo organismo qui a Catanzaro e che si occupa, così come la Cigella, così come l'Associazione Certi Diritti, di diritti umani. Poi abbiamo una particolare sensibilità, quindi dicevo, questo osservatorio si occupa come le associazioni, come la Cigella, di diritti umani, poi ho una particolare sensibilità sulla comunità LGBT, però a questo acronimo, che forse qualcuno di voi ancora non conosce, ci arriveremo lentamente. Ringrazio chiaramente il certo invito da parte di Giuseppe Rantino, ringrazio la scuola, in particolar modo la vostra dirigente, Annalia Felicis e tutti quanti gli intervenuti. Anche perché vorrei fare il tentativo in questo quarto d'ora di portarvi da un punto A a un punto B, dove però il punto B, come è dall'alfabeto è molto lungo, non è proprio un punto d'arrivo, ma è un punto in cui farò il tentativo di lasciarvi degli spunti, delle tracce, in modo che poi dopo cominciate magari a riflettere quello che sta vostra e cominciate a formarvi un'opinione. e poi avrete sempre come interlocutori privilegiati la scuola, la CGL, l'osservatorio, noi, per cui un momento di confronto sarà possibile anche dopo, così come io vorrei che nel corso dell'incontro qualcuno di voi magari prendesse un attimo di coraggio al Zassel di Dino, se ha una domanda da porre, piuttosto che una considerazione, noi saremo veramente felici anche di avere un rapporto di interazione. Oggi si parte, si parte dalla Shoah, per cui si parte dall'Olocausto, questa iniziativa l'abbiamo voluta fare non soltanto in modo commemorativo di ciò che è stato lo sterminio degli ebrei, però vicino allo sterminio degli ebrei non c'erano solo quelli, nei campi di concentramento nazisti sono stati sterminati anche i rom, i sinti, sono stati sterminati i disabili, sono stati sterminati le persone omosessuali, portavano il ferie a govorosa, sono stati sterminati i criminali. Non è soltanto un momento di conmemorazione perché abbiamo voluto dare una chiave un po' innovativa, il razzismo in questi dieci decenni si è anche voluto e oggi si manifesta in mille modi diversi, il concetto stesso di razzismo si è voluto, infatti le manifestazioni di razzismo oggi non sono soltanto manifestazioni che si compiono nei confronti di una persona che ha il colore dalla pelle diverso da tutti noi che siamo qui, oppure non è soltanto una manifestazione che si verifica e si basa sull'appartenenza etnica o sulla razza, è un po' più ampio questo concetto e lo analizzeremo punto per punto. Parlando un po' della Shoah, spesso e volentieri quello che è accaduto nella seconda guerra mondiale viene identificato come il male assoluto. A me invece piace ricordare un concetto diverso, vi citerò dei nomi. Anna Arendt ad esempio, Anna Arendt era una filosofa, una giornalista, una docente universitaria di origine tedesca, ebrea, che è riuscita a fuggire negli Stati Uniti e poi dopo accadde una cosa, i servizi segreti israeliani nel 1960 scovano un gerarcha nazista in Argentina che era riuscito a scappare, si chiamava Adolf Feitman, era colui il quale faceva un lavoro dal burocrate meticoloso, puntualissimo come tipico della nazione tedesca, e si occupava di organizzare i trasporti delle persone che dovevano essere sterminate nei campi di concentramento. Anna Arendt dagli Stati Uniti fu inviata a Gerusalemme perché il servizio segreto israeliano rapì in Argentina Adolf Feitman dopo averlo scovato, lo condusse davanti ad un tribunale a Gerusalemme per essere processato sui crimini contro l'umanità, che era l'accusa su cui si fondava questo processo. Anna Arendt è andata lì e ha seguito tutte le fasi del processo sul mandato di un noto giornale new yorkese di New York e quindi dovevo fare queste cronache e da queste cronache ne è uscito un libro, un libro dal titolo molto significativo, che io qui non ho portato perché la lettura forse è un po' impegnativa, però possiamo prendere proprio il succo. Il titolo di questo libro è La banalità del male e l'osservazione che faceva la Arendt è, vedete che quello con il quale noi identifichiamo il male assoluto, il male, il razzismo, le discriminazioni, vedete che è difficile che ci troviamo davanti a dei mostri che sono facilmente identificabili e la prova ne è proprio Adolf Feitman che è stato descritto semplicemente come un burocrata che durante il processo ci aveva pure il raffreddore, non parlava nemmeno tanto bene, ma un uomo dalle qualità veramente piccole e piccole, rimasto anche lui in un ingranaggio, incastrato in un ingranaggio molto più grande di lui e il male si è manifestato veramente con una banalità estrema, tant'è che oggi facciamo, conti da questo esempio enorme che è stato l'olocausto, facciamo fatica a riconoscere i tanti piccoli e grandi olocausti che si verificano nella quotidianità nel nostro paese oppure vicino al nostro paese, dopo vi dirò anche degli accetti. Quali sono i libri che mi sono portato qua? Mi comincio con il primo, io vi suggerisco ad esempio di procurarvi l'ultimo sopravvissuto di Sam Pivni, questa qui è la storia di un tredicenne che è scampato ad Auschwitz, al campo di concentramento di Auschwitz. Ho scelto delle storie perché voglio dire che probabilmente ci si appassiona e si impara di più dalle storie piuttosto che dai toni teorici e via discorrendo. Loro hanno incontrato proprio in occasione della giornata della memoria un po' differita, il giorno 30, un grande scrittore sudamericano che è Aflon, il quale ha scritto il pugile polacco e alcuni di loro lo hanno letto per intero, altri ancora l'hanno comprato, entusiasti di questo grande scrittore. Quindi questo è il secondo evento su una persona. Mi fa piacere. Quindi vi suggerisco questo testo, l'ultimo sopravvissuto, la storia di un tredicenne che è riuscito a scampare, quindi racconta la sua avventura di alcuni anni, sopravvissuto voglio dire ai pochi che sono sopravvissuti al campo di Auschwitz e all'altriganto. Poi vi suggerisco anche dietro il vetro sottile, quest'altro testo qui, un po' più piccolo, questo qui sono le memorie di un ebreo omosessuale nella Berlino nazista. Pensate un po' durante la seconda guerra mondiale che cosa poteva significare essere ebrei e anche omosessuali a Berlino, dove praticamente le persone venivano letteralmente deportate. Prima di parlare degli altri due però voglio raccontarvi un'altra cosa e vorrei un po' ragionare sulla definizione di razzismo. Se dobbiamo dire in una frase che cos'è il razzismo, possiamo fare tanti giri di parole, possiamo dire l'etnia, la razza, il colore della pelle eccetera eccetera, in realtà la possiamo semplificare con l'odio nei confronti delle persone basate su una caratteristica umana. Questa è la definizione di razzismo. Come? Una qualsimoglia caratteristica. L'odio nei confronti delle persone basate su una caratteristica umana. Questa è la semplice definizione di razzismo e questo è il filtro, lo spartiacque per capire, voglio dire, da dove nasce la discriminazione e quali sono poi dopo i percorsi per fare. Voi credete che situazioni come la Shoah, situazioni come l'Olocausto nei tempi recenti non si sono verificate e non si verificano? Vedete da qui a Milano, da Catanzaro a Milano più o meno sono 1000 km. Da Catanzaro in linea d'aria a Sarajevo sono di meno, sono circa 700-750. Cioè a 750 km in linea d'aria da Catanzaro c'è una città, una città martire a Sarajevo. Quest'anno è un anno particolare perché il 5 febbraio di quest'anno ricorre il ventennale, e vedete vent'anni nel corso della storia sono proprio l'analigo di vento, niente. Ricordo il ventennale della seconda strage del mercato. Ve lo voglio raccontare perché io vent'anni fa seguivo quello che succedeva nei Balcani, per cui queste cronache tremendo ogni giorno di strati, cecchini, la città di Sarajevo assediata, la gente che non poteva uscire perché c'erano queste persone che gli sparavano chiunque fossero. Tant'è vero che per, voglio dire, procurarsi proprio il cibo in questa città che era completamente assediata, avevano addirittura scavato dei cunicoli. E poi il 5 febbraio del 2014 accade un fatto, più o meno un centinaio, 100-200 persone nella parte vecchia della città mettono in piedi un mercato, un mercato dove comunque la gente doveva procurarsi qualcosa da mangiare e da fuori città arriva una granata, una granata da 120 mm scoppia e poi da lì l'eco internazionale, voglio dire, di questa strage, una strage infame perché questa granata colpì delle persone che erano dei civili, a Sarajevo non c'erano più giovani e per cui erano soltanto persone anziane oppure bambini, persone che in quel momento erano andate a procurarsi del cibo in una città dove non esisteva più un negozio aperto. Questo è successo l'altro giorno, 20 anni fa, non è successo durante la seconda guerra mondiale, 60 anni fa o durante epoche remote, parliamo di tempi recenti, parliamo di oggi e in questa strage morirono 68 persone. La cosa, voglio dire, più curiosa e che mi ha colpito di più e che mi ha fatto male è stato che esistono delle immagini tremende su questa strage, quindi voi potete immaginare quello che è un mercato per cui i banchi dove c'erano poche cose ma c'erano, quindi potevano esserci, c'errate alimentari, potevano esserci dei formaggi, della frutta, degli ortaggi, il minimo non c'era tanto, però esistono delle immagini veramente surreali dopo che è scoppiata la bomba, perché si vedono tutti questi banchi che erano quasi ordinati, completamente vuoti, voi potete immaginare se scoppio una granata a 220 mm in un posto che cosa fa, quindi i superstiti avevano recuperato qualsiasi briciola di ciò che poteva essere il sostentamento cito e erano rimasti questi banchi vuoti, quasi ordinati e poi un mucchietto dopo l'altro queste persone rilegnate, i feriti venivano trasportati dal cofano delle macchine, le ambulanze a Sarajevo per tanti anni non sono esistite più e i feriti venivano messe nel cofano delle macchine e portati in quello che chiamavano un ospedale dove praticamente non c'era nulla. Questo è successo un alito di tempo fa, pochissimo tempo e sapete quanti morti è costata la guerra dei Balcani? 100.000, cioè a 700 km di arriva qui, ce ne vogliono di più per arrivare a Milano, sono perite per una guerra che ha un'origine etnica per cui si basa sul razzismo, sono perite 100.000 persone. Per non parlare poi dopo delle guerre dimenticate, la Sierra Leone per esempio, adesso la Sierra Leone ha una sorta di pacificazione, però in Sierra Leone c'è stata una guerra che è durata tantissimo tempo e lì c'è il fenomeno dei soldati bambini, vi suggerisco di leggere memorie di un soldato bambino, c'è uno stomaco per leggere questo libro e vi avviso, questo libro graffia dentro, però lo suggerisco perché sono delle letture formative, perché sono delle letture dove i protagonisti parlano in prima persona di ciò che gli è accaduto e attraverso questo si impara che cos'è la violenza, che cos'è la polizia etnica per esempio. E adesso voglio passare un po' a quelle che sono, lo dico con un termine improprio, nuove forme di razzismo ma che assolutamente nuove non sono, cioè il razzismo ha sempre la sua radice, poi si manifesta in mille modi diversi. E questo si lega tantissimo per esempio al bullismo a scuola, perché si lega al bullismo? E su questo c'è un fatto curioso, perché io poco tempo fa ho ottenuto un intervento proprio qui a Catanzaro davanti a studenti come voi, però in comune c'erano diciamo delle altre scuole e nel prepararmi quell'intervento che era centrato proprio su omofobia e bullismo, allora ho cercato un po' di documentarmi, ho cercato di documentarmi perché ho riavvolto il nastro della mia vita, più o meno di un 25 anni, quindi sono ritornato all'età vostra e ho cercato di ricordare come si manifestava il bullismo agli tempi. Vabbè, io sono rimasto pure vittima del bullismo perché ho una caratteristica fisica, sono grosso, attenzione non ho detto molto grasso, grosso, cioè per me le persone sono ingrosse e sottili. Vabbè, ai miei tempi voglio dire, me lo sono cavata molto speditamente, no? Perché c'era questo compagno mio, si chiama Emilio, che mi dava contro e fa schifo perché sei grasso e fa schifo perché sei grosso, erano indietro. Poi il giorno che l'ho beccato, proprio nel momento giusto, e c'erano tutti, ma veramente tutti e ho urlato e tu fai schifo perché puzzi, è vero, è vero, cioè il bullo non si è manifestato più. Però attenzione, vedete, io ho avuto una fortuna ed è una caratteristica, ho avuto la fortuna di essere una persona resiliente, forse questo termine non lo conoscete, non so se sapete che cos'è la resilienza. A me piace molto questo termine, la resilienza è la capacità in pratica dei metalli di resistere agli attriti. Quindi io come tutti voi abbiamo un certo grado di resilienza, per cui con questo parliamo i colpi della vita. Però ci sono persone, attenzione, che questa resilienza non ce l'hanno o ne hanno poca. Andrea. Andrea era un ragazzo di 15 anni che si è tolto la vita con una sciarpa dentro casa a novembre del 2012. Andrea era il famoso, quello che poi è passato agli onori della cronaca come il ragazzo dei pantaloni rosa, tra l'altro ha origini calabrese, crotonesi, la mamma è di crotone e ho avuto il privilegio di conoscerle e anche di presentare questo libro di cui vi suggerisco la lettura, perché la mamma coraggiosamente ha messo a disposizione di tutti noi la storia di Andrea. Andrea, peraltro voglio dire, lui si è tolto la vita proprio perché evidentemente era un ragazzo con poca resilienza e questo non è un demerito, perché stessa la società tutelare meglio, tutelare di più queste persone e Andrea si è tolto la vita perché qualcuno ha pensato bene di creare un falso profilo Facebook suo, dove avevano poi raccolto una foto, anche simpatica voglio dire, di Andrea che indossava per scherzo questi pantaloni rosa, che non erano rosa ma non era altro che un pantalone stinto dalla lavatrice con un lavaggio sbagliato e gli avevano attaccato addosso l'epichetta di omosessuale, lui che poi paradossalmente neanche lo era omosessuale perché stava dietro di una ragazza per esempio, no? Però dai oggi, dai domani, poi la scritta sulla scuola, poi gli sms, poi tutto quello che è avvenuto sulla sua baghezza Facebook ha fatto in modo che un giorno la sua vita si spezzasse e la madre ci ha consegnato la sua storia, per cui vi suggerisco di leggerlo questo libro, perché anche questo qui è formativo e riprendendo un po' il concetto di prima, riavvolgendo il nastro dalla mia vita di 25 anni, allora mi sono ricordato che ai miei tempi a scuola c'era tutta una varietà di caratteristiche sulla cui base scappava voglio dire la manifestazione del bullismo, per cui lo sfottò anche pesante e c'era quello grosso, c'era quello sottile, c'era quello col collo lungo, per arrivare poi dopo a cose diciamo dove ci si accaneva un po' di più, no? Ti portava gli occhiali, era visto, oggi è una cosa di far ridere, no? Oggi ti porta gli occhiali, non è che mi era preso di mila, ai miei tempi sì. Poi c'era l'onda, cioè l'onda era l'apparecchiai denti, cioè chi aveva l'apparecchiai denti era proprio condannato nel senso, allora oggi ho fatto un po' un esperimento, ho avuto la fortuna di parlare con un adolescente, ma veramente qualche settimana fa che porta l'apparecchio, io ho detto scusa ma ti crea problemi qualcuno il fatto che porti l'apparecchio denti, perché ai miei tempi era una cosa proprio tremenda, dice l'apparecchio? ho detto no, perché dovrebbe crearmi il problema a scuola, ah sai nei tempi si veniva preso in giro, cioè pesantemente, no, l'apparecchio me lo invidiano, te lo invidiano e come mai te lo invidiano? Sai mi dice papà ci ha messo bei soldini, ma non è tanto questo, io fra tre mesi che lo tolgo avrò una dentatura perfetta, chi me lo invidia? No, vedete come cambia un po' il paradigma? Però fate attenzione, 25 anni fa c'era l'offesa peggiore che è rimasta oggi, anzi si è aggravata, volete sapere qual era l'offesa peggiore dove si manifestava il bullismo 25 anni fa, la parola con che si veniva offesi, delisi e discriminati? Con il termine frocio, accompagnato poi da tutta una serie di aggettivi che non ripeto più a rispetto di tutti. Ora no, vero? Oggi? Oggi no. Oggi? Non è una cosa oggi, non la usate come in giuria? Oggi? Una domanda, sì o no? Vabbè, decisamente sì perché ho diciamo un dato un po' sconfortante, oggi non vengono presi più di mila alle persone se hanno il collo lungo, se sono grosse, sottili, se portano gli occhiali, meno che mai l'apparecchio e i denti vorranno contatto, ma oggi l'80% delle offese che vengono consumate proprio nelle scuole che si dà, cioè l'offesa peggiore è rimasta frocio. E questo qui ci dà, diciamo, mi dà l'occasione e mi avvio verso il termine dell'intervento per parlare un po' di che cos'è l'omosessualità in realtà, e che cos'è questa manifestazione di offesa che si esplicita, no? Sul termine progetto. Vedete, l'omosessualità è una caratteristica umana, cioè non c'è bisogno di un trattato enorme oppure di un milione di parole per dire che cos'è. Il 17 di maggio del 1990, per cui 24 anni fa, un'organizzazione che non è la bocciopila che sta sotto casa mia, ma l'organizzazione mondiale della sanità, ha dato la definizione ufficiale di omosessualità e la definizione è questa, variante naturale del comportamento umano, fate attenzione, la parola sessuale, sessualità non c'è, variante naturale del comportamento umano. C'è un problema che dovrebbe essere risolto lì. L'organizzazione mondiale della sanità ha finalmente, poi dopo la dottoressa ci spiegherà magari anche in termini scientifici, in qualità di sessuologa, anche la differenza tra orientamento sessuale e unità di genere, sono cose già interessanti da conoscere. E quindi voglio dire, quando ci si accanisce nei confronti, voglio dire, di una persona per una propria caratteristica umana, che può essere anche l'omosessualità, che cos'è se non una manifestazione di razzismo? È una manifestazione di razzismo a sfondo omofobo. Io infatti non parlo mai, tu curda, la parola omofobia perché la ritengo un termine errato, perché di fobia in questa manifestazione non c'è nulla, perché le manifestazioni che vengono definite omofobia sono manifestazioni a tutto tono di razzismo o possiamo dire anche a sfondo omofobo, ma queste sono e non altro. Passa all'acronimo che vi ho detto prima, l'acronimo LGBT. Io sono un attivista della comunità LGBT e LGBT significa lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Chiudo. Lo scattiscono meglio. LGBT, lo scattiscono meglio? Ok. Io sono un attivista della comunità LGBT e LGBT significa lesbiche, gay, bisessuali e transgender. E non bisogna avere paure di queste parole perché sono paure assolutamente infondate. Vorrei chiudere il mio ragionamento con un concetto ed è lo spunto, la riflessione che voglio lasciarvi. Mi domandavo l'altro giorno qual è l'aspirazione massima della persona umana, senza cangiarmi a temi poetici, alla letteratura, eccetera, eccetera, semplifico di molto. Ragionavo su questo e l'aspirazione massima della persona umana è la felicità. Niente di più e niente di meno. Come si raggiunge la felicità? Io faccio un coming out, non sul mio orientamento sessuale, ho fatto già da quel bima, faccio un altro tipo di coming out. Io sono da un po' di anni una persona felice, mi dichiaro una persona felice perché ho la fortuna di vivere una vita assolutamente piena e soddisfacente. E ho scoperto che ho raggiunto la felicità il giorno in cui sono riuscito a diminuire al minimo proprio il mio tasso di pregiudizio. Perché se una persona dentro di sé prova odio nei confronti delle altre persone umane, meno che mai se quest'odio si basa su delle caratteristiche umane, la nazionalità, il colore della pelle, l'orientamento sessuale, eccetera, eccetera, come si può pretendere di avere una vita piena e soddisfacente. Qui però si pone un problema. Noi viviamo in una società che è ancora profondamente ingiusta, profondamente discriminatoria. Per cui si resta un po' disarmati. Si apriamo ogni giorno quotidiano della Calabria, ma come tutti gli altri giornali, si resta annichiliti sulle storie che vengono scritte e che ci disegnano una società che è ancora profondamente ingiusta. E allora ognuno di noi che cosa può fare per cambiare questa società? Ognuno di noi deve diventare Gandhi? Beh, Gandhi ci ha lasciato una frase bellissima. Siete voi il cambiamento che volete vedere nel mondo. Ma questo significa che ognuno di noi deve diventare un attivista dei diritti umani? Ognuno di noi deve diventare un Martin Luther King nella situazione e magari farsi ammazzare pure? Non è richiesto a ognuno di noi. A ognuno di noi però è richiesta una cosa forse più efficace, più semplice, ma molto più efficace. Si deve partire dal cambiamento di noi stessi. Ognuno singolarmente deve liberarsi dei propri pregiudizi. Perché vedete, noi viviamo in un paese dove fa da padrone il concetto di tolleranza. Toleranza significa che io una cosa o una persona la supporto. E questo mette proprio i piedi su un pregiudizio. Metti i piedi su un pregiudizio perché noi ancora oggi utilizziamo una terminologia, un lessico inadatto quando parliamo di diversità. Io ho cambiato il paradigma. Io non parlo mai di diversità o di minoranze, ma per me esiste soltanto il concetto di varietà umana. Questo è importante perché fa scattare un meccanismo dentro di noi. Fa scattare un meccanismo perché le diversità possono essere viste con occhi storti. Le varietà invece vengono viste sempre con curiosità. La curiosità nel tempo si trasforma in rispetto. Il rispetto nel tempo si trasforma in amore. Cambiando noi stessi, ognuno di noi, senza essere attivisti mondiali dei diritti umani, questa è soltanto questa la strada che può far migliorare questa società ingiusta, un millimetro al giorno, però nella direzione giusta. E vi ringrazio davvero di cuore per avermi ascoltato. Grazie. Grazie Marco. Davvero io vorremmo stringere i tempi per sentirevi parlare. Quindi lo faremo. promesso. Diciamo che se siamo d'accordo, così intanto vi preparate. Mi togliete un po' la paura di dover intervenire. Passiamo la parola alla dottoressa Monica Ricci, la nostra sessuolora, nel senso la nostra, che ci ha aiutato, quella che abbiamo confrontato per aiutarci a parlare con voi e insieme a aiutare anche noi a ragionare su questi temi. E dopo lasciamo spazio alle domande, così abbiamo la possibilità a Matteo Cosenza di fare un po' il ragionamento di sintesi e di chiudere anche con i ragionamenti. Ok, buongiorno a tutti ragazzi. Io ringrazio loro che mi hanno invitato. Io mi presento solo un attimino, mi chiamo Monica Rizzo, mi occupo di psicologia clinica, di psicoterapia e di sessologia. Quando mi hanno invitato a questo incontro, la cosa che mi ha fatto un grande piacere è avere una pledea di ragazzi. Mi chiamano la dottoressa rivoluzionaria. Perché? Perché io con i ragazzi sono sempre, in primis, mi metto a disposizione delle scuole e faccio solo una piccola promessa e non ne voglio arrivare di gente scolastico per quello che dico. Perché? Io sono stata un'attivista della sessuologia nelle classi e nelle scuole e soprattutto ho iniziato con le scuole medie. Quando mi è stato proposto questo l'ho fatto per un anno di puro volontariato. Mi sono offerto, ho fatto educazione sessuale, hanno visto i risultati. Anzi, la premessa era, dottoressa, avrete delle classi che sono un disastro. Io tutto ho visto che classi di un disastro perché i giovani, quando io mi rapporto con i giovani, o sarò io, o sarà l'argomento, comunque mi stanno ad ascoltare. Nessuno è mai stato scorretto nei confronti, nessuno ha mai fatto battute e doppio senso. Mi hanno ascoltato e mi hanno appreso. Il risultato, il preside mi dice facciamo un'associazione, cioè faccio un'associazione, mi metto a disposizione con quattro colleghi, creiamo un'associazione unica in Calabria, che era il centro di sessuologia della Calabria Omnus. Specifico Omnus, perché quando dopo mi ha emesso di apertura di questo centro, vengo contattata dall'agenzia delle entrate, che mi dice che non si poteva più fare un Omnus con questo centro, perché Omnus significa darsi da fare per i bisognosi, tra virgolette. Quindi ascoltate e tremate, quindi il direttore che mi ha svolto un attimo. La sessuologia non è stata potuta fare nelle scuole come Omnus, perché potevano partecipare solo ed esclusivamente i bambini e i ragazzini disagiati. Quindi il ragazzo che non era disagiato e che magari aveva difficoltà, come ha detto prima Marco, di orientamento sessuale, di disfunzioni sessuali, ahimè se riteneva, perché non erano i ragazzi che non potevano partecipare a queste elezioni. Quindi io l'ho fatto per l'anno che mi spettava, dopo di che a malincuore veramente ho chiuso l'associazione e non ho voluto più sapere. Quando mi invitano a questi incontri io vengo volentieri perché mi fa piacere che la sessualità, prima parlavo con il professore che ha una moglie medico, dove diceva che in consultore guardie mediche vanno molti ragazzi minorenni a chiedere la pillola del giorno dopo, come se fosse acqua. Voi forse non capite che la pillola del giorno dopo è una carica di ormoni che porta poi appunto un aborto naturale. Adesso mi spiego, quando io agli adolescenti di terza media, perché le classi che ho seguito erano terza media, chiedevo qual'era la difficoltà, aveva un rapporto sessuale precoce, era la paura di rimanere incinta o di contrarre IBS, gonorrea, sicilide e tutto quello che c'era, ahimè il problema era rimanere incinta. Cioè quindi poi contrarre un IBS o contrarre la gonorrea poco importava. Quindi il profilattico che doveva essere un invito e non un dirietto alla sessualità, era soltanto per proteggerli. Questa è una piccola promessa, l'argomento di oggi è da tutto altro, quindi io vorrei parlarvi appunto di questo razzismo e sarà una coincidenza, io in questo periodo sto seguendo tre ragazzi transessuali, di cui uno ha l'età di 20 anni, una che adesso ormai è finita il percorso, quindi farà solo l'intervento chirurgico e ha 40 anni, è un uomo di 30. Adesso prima, giustamente dicevano, qual era l'offesa di 20 anni fa che si poteva fare a un ragazzo o ad una ragazza? 20 anni fa, oggi no. Oggi no perché è cambiato il termine, oggi se si vuole offendere qualcuno lo chiamiamo transessuale, lo chiamiamo transgender, chiamatelo come volete, ma frogio non è più tanto offensivo come 20 anni fa, oggi è offensivo il trans, perché il trans è quella persona se voi non lo sapete, uomo o donna che sia, che ha un corpo che non sente suo, quindi ha delle gravi difficoltà psicologiche, con tentativi di suicidio alle spalle, fin da San D'Addio di questi tre nessuno è riuscito, che però non viene capito, perché come faccio a dire a un mio coetaneo di 20 anni che ho un corpo di uomo ma mi sento donna? Non mi capisce, poi il cyberbullismo o comunque non so se avete sentito parlare di sexting, avete sentito parlare di questo termine? No, il sexting è quello che fate comunque voi tutti i giorni in presumo, mandarvi dei messaggi con la differenza che sono dei messaggi a sfondo sessuale, quello che forse non so se la maggior parte sa o comunque io lo ripeto, il messaggio che viene inviato, video che sia, o messaggio scritto sempre tramite cellulare che viene inviato, anche se ci si pensa di averlo inviato e viene cancellato, non è cancellato, è entrato in rete, entrare in rete significa diffondere questo messaggio, quindi la situazione che faceva prima Giuseppe, era una ragazza di Reggio Calabria che aveva fatto un video sulla masturbazione che poi è stato mandato a tutto il mondo, perché poi entra in una rete che la vede tutto il mondo. La domanda inizia a lei, perché la ragazza, comunque, sì? La domanda si potrebbe dire, ma perché la ragazza ha dovuto fare un video e poi comunque pubblicarlo? E anche se qualcuno l'ha estrapolato, l'ha sempre pubblicato lei? O se voleva essere più cattivi, qualcuno l'ha prece, l'ha pubblicato? Ma perché ha fatto questo video? Perché ci sono dei messaggi di aiuto, dei messaggi di essere ascoltati, di essere capiti, di essere considerati che forse il mondo per essere considerata in questa ragazza, io lo sto soltanto ipotizzando perché non conosco la persona, ma mi baso su quello che arriva a me, arriva a me allo studio, alla disperazione di queste ragazzine, di questi ragazzini che non vengono ascoltati, che non vengono calcolati, perché ognuno ha i suoi problemi. E allora preferisco nominare in uno studio, affrontare una terapia perché qualcuno per un'ora l'ascolta. Allora, questa ragazzina probabilmente, come Andrea, Andrea sicuramente è stata vittima di cyberbullismo, però c'è una fragilità di base. Io non penso che quasi tutti i ragazzi che sono qui si indosseranno un pantalone rosa, verranno poi alla fine a tentare un suicidio. Probabilmente c'è una fragilità. Un'altra cosa, voi state a scuola, penso, dalle 8 e mezza di mattina fino alle 1 e mezza alle 2, non so se fate niente, non so se fate dopo scuola, ammettiamo che state fuori casa fino alle 4 e 5 di pomeriggio, tornate a casa e il tempo di sistemarvi, genate, buonanotte mamma e papà. Quante ore state con mamma e papà? Molto poco rispetto a quello che voi fate a scuola. Quindi la scuola, in teoria, è la vostra prima famiglia, è l'istituzione che vi deve educare. E voi siete stati tutti educati dalle vostre famiglie, ma perché c'è questo? Io però c'è la differenza tra maleducato e scostumato perché parto dal concetto che siamo stati tutti educati, però a me siamo molto scostumati, perché un ragazzo che risponde è una donna o un uomo più grande di lui, 30 anni fa vi assicuro non succedeva. Se 30 anni fa il genitore veniva segnalato dal docente perché il figlio era uno scostumato, il genitore tornava a casa e al figlio non improverava, aveva alcune punizioni. Adesso no, perché i docenti non possono fare più neanche il loro lavoro, perché se poco poco alzano la voce contro il ragazzo, vengono i genitori e saranno appena con i docenti. Comunque, a livello di questo... Questo anche è vero, questo anche è vero. E con il preside ancora di più. Quindi, forme di razzismo, forme di incomprensione, forme di non essere di aiuto, ce ne sono. Sono d'accordo con la vostra preside quando dice ho visto classi, ho visto classi, io ho visto gruppi, perché singolarmente, io non so se fate parte di piccoli gruppi o di grandi gruppi, ma singolarmente siete persone brave, buone, intelligenti e rispettose. Almeno il gruppo, da quando si chiama gruppo, è sempre una grande forza. Il gruppo è forza, il problema è che se il gruppo decide di andare verso o di andare contro, perché se va verso, raccoglie una bella petta di società per andare a migliorare. Se va contro, noi ci troviamo branchi di ragazzini di 13 anni che violentano le proprie compagnie perché fanno gruppo, però sono tutti bravi ragazzi. Poi l'OSM, come diceva Marco, che l'omosessualità, ve lo dico come scienza questo, ormai da 20 anni non è più nel DSM. Il DSM è un nostro manuale diagnostico delle malattie mentali. Quindi 20 anni va, noi entravamo nei disturbi dei sessuali e troviamo nelle perversioni, noi troviamo nelle perversioni travestitismo, boierismo e impeticismo, omosessualità. Oggi non c'è più, cioè non entra più nelle perversioni sessuali l'omosessualità. Ecco perché vi dico che il termine transessuale invece adesso è più forte come offesa, perché ancora nel manuale diagnostico è considerato una perversione. Se poi vediamo, io ho curato e ripeto adesso lui è donna, quindi più ne chiamano donna, questo che adesso è una donna è un padre di due figli. Quindi si è sposato, ha fatto due figli e oggi una donna. Ha tentato il suicidio tre volte, perché? Perché nessuno è stato capace di ascoltarlo, perché quando lui dava messaggi di malessere la società lo affondava. Quindi siccome per un benessere, per stare bene, sempre l'organizzazione mondiale della salute, dice che il soggetto deve raggiungere un equilibrio psico-fisico-sociale. Quindi se io sto bene psicologicamente con la mia omosessualità, sto bene perché fisicamente sto bene, ma la società non mi accetta, mi distrugge. Quindi la società ha una grande forza, ha una grande forza per quanto riguarda tutte le forme di razzismo. Io sono stata interpellata per la sessualità, per non parlare delle disfunzioni sessuali. Perché a me, se un ragazzino di vent'anni viene nel studio e mi dice che ha un problema di disfunzione rettile, è un ragazzino che invece mi lanca di avere 10 rapporti sessuali a settimana. Perché? Perché la società, se tu hai più rapporti sessuali, sei un grande uomo, se stai zitto e in silenzio vuol dire che non l'hai mai fatto, quindi ci inventiamo una bella storia e adesso come faccio che mi sono fidanzato e ho problemi di sessualità? Andiamo a curarci. Un'altra pillolina, se ho tempo, volevo soltanto fare un appello ai ragazzi. Perché le ragazze culturalmente, per educazione, conosciamo che cos'è il ginecologo. Quindi di solito quando abbiamo la nostra prima amministrazione che si chiama Menarca, dovremmo andare a fare una vista ginecologica da quel momento in poi, ma se non la facciamo non sa niente, comunque abbiamo idea che cos'è un ginecologo. Quando io parlo con i ragazzi che cos'è un andrologo, non lo sanno. Se lo sanno lo confondono con l'unologo, a meno che non avete familiari, entre padri, medici, quindi forse lo sapete, ma l'andrologo è il ginecologo maschile. Adesso, ritornando sempre a 20-30 anni fa, il militare era un obbligatorio. Quindi cosa si faceva? Nella visita militare c'era il medico che vi visitava, faceva un esame obiettivo, esame obiettivo significa che visitava il vostro organo sessuale e capiva se avevate una piccola problematica che si chiama baricocere. Il baricocere importa la sterilità. Quindi oggi, dicevo prima alla professoressa, che il ginecologo, quando la coppia vuole avere i figli, non chiede più solo gli esami femminili, quindi ormonie, ma chiede spermioliamma, spermiocultura, eco, color doc, che sono tutti esami che dovete fare voi maschietti. Siccome il baricocere è a gradi, va dal primo a quarto grado. Se io lo prendo quando è a quarto grado, tra parentesi, è asintomatico, quindi voi non sentite dolore, non sentite fastidio, lo sentite quando è a quarto grado. Questo significa che i vostri estermatozoni sono morti e non potete più procreare. Non potete più procreare, cioè non si potrebbe fare nulla a quarto grado, ma se io vado e faccio una bella vista andrologica e mi dicono che c'è un baricocere di secondo grado da tenere sotto controllo, probabilmente mi curo e rendito il tutto da avere figli. Quindi quello è un consiglio che va fuori forse la tematica, mi sentivo di dirlo. Mi sentivo di dirlo perché penso che l'educazione sessuale significa anche educarvi a fare delle visite mediche e quindi oltre più ogni anno una buona parte di andrologi in tutta Italia, ma anche a Nanzaro, partecipa alla giornata gratuita della vista andrologica, coincide quasi sempre nella settimana della festa del papà, quindi intorno al 19 marzo. Questo significa che voi vi date un bel laboratorio di ospedale, vi fate una visita, non vi costa nulla e forse evitate i problemi. Un altro piccolo consiglio è chiuso e chiudo, evitate di mettervi boxer o slip molto stretti per chi ha questo problema, perché il calore porta a una infiammazione e quindi stimolate questa piccola problematica ad arrivare subito a un quarto grado. Se ci sono domande, io sono apertissima, sono con voi sempre, perché secondo me i giovani avrebbero soltanto bisogno di ascolto e di confronto. Ho detto prima alla giornalista che un giorno le farò leggere delle domande anonime, che sono anonime, che mi hanno fatto i ragazzini di terza media e poi le farò leggere invece le domande che mi hanno fatto quelli del liceo. Poi mi dirà quali sono quelli del liceo e quali sono delle scuole medie. Lei, giustamente, l'intuito ha detto, le più scabrose saranno quelle delle scuole medie. Ma io vi ho detto, non le più scabrose. Quello che la fantasia pensa, aumentatela. Perché io ho sentito domande che io non le ho mai fatte, ma in terza media forse giocavo alle bambole, non pensavo agli animali o ai morti. Quindi, quando l'educazione sessuale vanno fatti in più interventare, penso che ci sia una perversione tale che la sessualità, grazie all'internet, e non è il blocco, perché posso mettere il blocco a un bambino di 5 anni, 10 anni, ma tanto ci sono gli altri, quindi non ne concludiamo niente. Grazie. Grazie davvero alla dottoressa Monica di cuore per come è entrata nel merito di alcune domande che io richiamavo all'inizio come paura della propria sessualità. Ora ci troviamo insomma a dare, secondo me, il senso vero alla giornata, nel senso aspettiamo considerazioni e oggi tutti in fila al laboratorio dice 9 marzo, ci riconosciamo là, ma a parte questo insomma qualche considerazione su quello che è stata questa giornata, penso sia interessante se ascoltarla, se ha stimolato qualche curiosità, qualche dubbio o qualcosa, quindi vediamo un po' di tempo per vedere. Allora io vorrei che voi interviste, vorrei che voi trovate voce, inizialmente io mi ho provocato, cioè il mio intervento iniziale è stato provocato, perché tutto quello che ho detto è vero, ma è vero anche il contrario, è vero anche che siete generosi e solidari, è vero anche che siete capace di grandi atti di eroismo, è vero anche che conoscete l'amore e lo sapete praticare. E' vero anche l'altra cosa, è vero che avete un cuore e un animo grande, secondo me, un intelletto aperto e duttile, quindi ora vi invito a intervenire, anche perché in questa scuola un po' di educazione non dico sessuale, ma sicuramente sentimentale viene praticata, loro stanno facendo un laboratorio per esempio le ragazze di difesa contro la violenza maschile, con il centro caratteristico di solidarietà, hanno un CIC che è un centro d'ascolto dove spesso emergono problemi anche di origine sessuale e o discriminatoria e o pregiudiziale, quindi non sono nuovi a un'esperienza, né indagini intorno a questi problemi. Chi viene? Forza! Non vi fate pregare per alcun modo e con 12 anni di nuoto, non vi siete abituati a dare voce alle vostre emozioni, no? Forza! Gli ho sguardi incuriositi, li sentite, li ho visti. Date voce alle vostre inquietudizioni. Grazie a tutti. Allora, vediamo un po' che cosa ne pensi di questa mattinata. Ma io non so cosa cosa devo dire, a parte il fatto che le persone che adoperano progio o omosessuale come insulto, sono le prime che poi inneggiano all'uguaglianza, sono le prime che frequentano i collettivi, sono le prime che... Come pure vero che, per esempio, tutti quelli che sono per la globalizzazione, per il confronto, per l'abbattimento delle frontiere, sono anche le stesse persone che quando vedono un immigrato per strada cambiano marciapiede perché io ho paura del rumeno che magari sono da sola, è un giovedistere, è un piccolo, non c'è nessuno, chissà che cosa mi fa. E quindi comunque il razzismo è sempre esistito e continuerà a cercare esistere come forma di autodifesa per l'ignoranza. E poi facciamo intervenire loro in risposta. Forza ragazzi, qualche persona dell'altro sesso? Un maschetto? Allora c'è un maschetto che vuole parlare, ho una premia, ve lo fate rire per piacere, sollevatela di forza. Forza, vieni, si vantò di spaventare la tua opinione, quello che è, che pensi? Allora, io ho ascoltato tutto quello che hanno esposto i relatori, e penso che principalmente quando si parla di razzismo e si parla di odio per il diverso, per una persona con interessi diversi dai nostri, quando ad esempio si parla di persone che hanno un'altra sessualità o persone di razza diversa, penso che comunque fondamentalmente il razzismo di oggi c'è un razzismo diverso perché si va a scavare di più nell'animo delle persone, cioè è facile identificare una persona e dire tu sei diversa perché hai il colore della pelle diverso dal mio, io sono bianco, tu sei nero, quello sarebbe troppo facile, e penso che l'animo umano sia più cattivo, sia peggiorato, cioè non basta per sentirsi superiori discriminare il colore della pelle, penso che il razzismo di oggi sia una cosa che vada ad avverire le persone in quello in cui sono più deboli, quindi ad esempio si va ad avverire il compagno più timido, si va ad avverire la persona meno, diciamo, a contatto con gli altri, quella che tende a isolarsi, quindi penso che fondamentalmente è meglio non parlare oggi magari di strumenti come la Shoah perché sarebbe una cosa troppo politica, diciamo, penso che a vantaggio di tutti sia meglio parlare di quello che succede realmente tra i banchi di scuola perché la Shoah è stato un episodio gravissimo e che va sempre ricordato perché l'uomo non deve farlo, però penso che in piccola parte tutti i giorni noi siamo vittime e nello stesso tempo siamo anche i paudori del razzismo, quindi penso che sia stato un bel momento parlare di quello che succede tutti i giorni. Allora, concludiamo con un pezzo poi a quello che vorrei che voi vi rivolgeste anche agli interlocutori e che chiedesse risposte a qualcuno. Signorina, tu chi vorresti che rispondessi a quello che tu hai detto? Io. Eh? Non so, chi vorrei rispondere risponda, alla fine. Io vorrei rispondere. Non ti interessa l'opinione di una persona più di un'altra? La sessuologa oppure la persona che si è interessata di particolari organizzazioni, o il direttore del quotidiano. No, io vorrei che rispondesse lui. Lui chi? Questo è davanti a me, vorrei che rispondesse. No, io vorrei che rispondesse. No, ci vanno bene, ma perché non è la ragazza? Ma no, capisco, invadisci il concetto che non me lo ricordo. La ragazza ha detto che non è spesso, più breve, contro il pregiudizio. E' il primo che pratica comportamenti pregiudiziali, cioè che si fondano sul pregiudizio. Che quelli che dichiarano di non essere tazzisti evitano i numeri. Quelli che dichiarano di non avere pregiudizi sessuali spesso offendono i propri compagni. Sugli appellativi, però, io non sono d'accordo, perché io li sento, e loro continuano a usare il croccio, insieme a un attributo equivalente femminile che riguarda i liberi costumi delle donne. Quindi la donna è, come dire, tracciata di essere appartenente ad una città che non è greca, e l'uomo di essere il croccio. Quindi troia e il croccio, sono i due amici di un ricordo che non è greca. Bisogna dire poi se le risposte, se le risposte, se le risposte, è vero questo? Sto dicendo una stupidata? È vero o no? Sì, è vero. Vuol dire che siete un po' arcanci, in me l'espressione? O no? Cioè che parlate come parlavamo noi. Avete avuto notizie di quella ragazza che ha subito una violenza nel bagno di una scuola professionale? I compagni si sono difesi dicendo che è stato uno scherzo, e lei è stata subvissata di sms offensivi perché avrebbe tradito il gruppo denunciando il fatto. A voi questo sicuramente non capiterebbe, vero? Cioè se voi siete a conoscenza, gli atti che contravengono e contraddicono la libera scelta di ciascuno e di tutti, fatti di violenza. Voi siete i primi a denunciarli, tutti. Così, quindi. La mia opinione è che comunque va bene essere amici, fare il gruppo, uscire insieme il sabato sera, ma quando poi il gruppo va a minare qual è che è la dignità individuale, secondo me, cioè, la notizia non conta più niente perché se noi siamo amici con una cosa del genere non la fai, tu denunci quello che accade, nonostante tutto. Perché è una persona che viene, diciamo, violentata in un bagno, in una scuola, comunque un trauma che si va guardata giusto per tutta la vita, non finisce 17 anni. Comunque, secondo me, è una cosa che perde i sociaggi. eppure su Fesbo, cioè, qualcuno sosteneva che se n'era in qualche modo cercata. Quindi è una bella ragazza che induce spesso in incontri sentimentali e odia altra natura, con i maschi. In qualche modo, il maschio, a pretendere una prestazione, a subirla, è perso i maschi. È vero che sarei cercata quella ragazza, secondo voi? Personalmente non si è pieno di gestire la propria sessualità come miglia fede e per stermi come miglia di cari, infatti si dice che siamo figli di vita della società e non si è libera di esprimere i propri costumi, i propri giudizi, fino a quando la nostra vita fa una slede per l'attore. Se tutto ciò è vero perché per dare le giustificazioni fallate, come se tu dicessi, la trova che va a provocare, c'è una contraddizione di sensi. E che c'è, ammonte, nel comportamento maschile, vorrei sapere, cioè tu che sei un maschio e un tenetore, come pensi? Che cosa hai? Pensi che scatene una situazione, che possa scatenare questa situazione? Sinceramente non posso dare un'ispirazione, ma un comportamento del genere. Pensi a avere la mia stessa partecipazione di persone. Quindi diamo a lei la parola. Allora, io gli ho detto una proposta, sono d'accordissimo con i ragazzi, perché giustamente l'uno è libero di vestire e di fare quello che vuole. Però c'è da dire anche una cosa importante, e non è ripetitivo, perché l'avete sentito mille volte quello che sto dicendo. Le donne sono cambiate, le ragazze sono cambiate, quindi nel momento in cui io posso essere anche libera di mettere un amico, è un toppino dove faccio intravedere il seno, però è anche vero che io provoco il macchio, che parliamo di un ciclo, siamo tutti adulti, è fatto di ormoni, come siamo fatti noi donne, quindi la ragazza che si prostra un po' verso l'uomo, provocandolo, è vero che l'uomo deve dire di no, cioè deve soffocare i suoi istinti, però passiamo parlando di istinti, e quindi nel momento in cui la ragazzina, perché io parlo anche, perché molti ragazzi che soffrono di disfunzioni sessuali, vengono da me e mi dicono, dottoressa perché la ragazza mi ha inudito, perché la ragazza ormai non ha più limiti, sa quello che vuole, va oltre, e quindi questi ragazzi che comunque hanno una loro fragilità, e non vado a fare psicoanalisi o psicoterapia, e vogliono emergere, al mecavano nel tranello della violenza, perché nel momento in cui poi io sopraffatto, e vado in un bagno di una scuola, a violentare una ragazzina, è il mio istinto di stato soddisfatto, non la mia morale, perché la mia morale è a terra, ma non quel momento, era quello che volevo dimostrare, adesso questo lungi assolutamente nel dire che siete comunque autorizzati, nessuno è autorizzato, e tutti, come dici, hanno la libertà di vestirsi come vogliono, però è anche vero che bisogna avere rispetto dell'altro, e il rispetto non deve darlo solo il ragazzo verso la ragazza, ma anche la ragazza verso il ragazzo, quindi se tutti fossero un pochino più, tra virgolette, educati nel camminare, perché ci sono ragazze che hanno classe, e hanno stile nel portare una minigonna con un tocchino, senza provocare, allora va bene, però se io provoco, non è vero che me la sono andata a cercare, perché io non me la vado a cercare la violenza, però se io provoco, vado oggi, vado domani, vado dopo domani, a insistere davanti a un ragazzino, mettendomi in condizioni tali, da poter fare esplodere un istinto, non significa che me la sono andata a cercare, però punti in sospensivi, quindi ecco, e io dico che la società è cambiata, perché noi donne abbiamo inipito gli uomini, e l'orgoglio maschile che è culturalmente innato, in ognuno di voi uomini, non gli sta bene, non gli sta bene, perché, questo tra virgolette, prendetelo come le pizze, non voglio offendere nessuno, il fallimento maschile oggi non è solo sessuale, è lavorativo, è un mix, non si sente soddisfatto, non ha lavoro, voi andate a vedere, se guardate una statistica, guardate quanti ragazzi sono più violenti, e fate una loro vita, una pronostoria, e tutta gente che o non lavora, o che non ha amici, cioè il vostro programma preferito, penso che voi ragazzi vorrate tutti un cignolo, che io ultimamente non, penso che non è più come prima, però l'ucignolo cosa ti dice, o liene, va a intervistare un ragazzino, non so se l'avete visto l'altra volta, che mandava messaggi sessuali, spacciandosi per un uomo più grande, a una ragazzina, questa ragazzina ha avuto il coraggio di rispondere, di mandarla al paese, e di denunciare il fatto, lui nell'intervista ha detto, l'ho fatto perché mi annoiavo, cioè quindi la noia, il fatto di non essere comunque ascoltata, non capiti, l'ho detto prima, è il serpente che si morde la coda, vogliamo dare la colpa, e diamo la colpa, ci sentiamo meglio, però è il serpente che si morde la coda, parte dalla famiglia, e finisce alla società, quindi è vero come dice Marco, che non possiamo fare i grandi della situazione, però io invece sono convinta, che nel piccolo possiamo fare i nostri grandi, perché noi soltanto facendo delle opere di bene possiamo migliorare, se continuiamo ad essere, l'hai detto tu, siamo cattivi dentro, cioè non è più la cattiveria, e quindi la cattiveria, chiamo cattiveria, non ce ne tratta, se noi ce ne andiamo in Africa, che facciamo i missionari, chiamiamo contà, perché facciamo i missionari, ma se qui la cattiveria è a dire la cattiveria, continueremo, e non voglio fare più moralismo, perché ognuno, come dice il ragazzo, è libero di fare quello che vuole, senza invare la libertà dell'altro, perché anche i docenti, non so se ci sono docenti uomini, penso che se una ragazzina di 15 anni si presenta a lezione, o a scuola con un amico o un tupino, io non so se è qua, io quando andavo a scuola, io non ho 60 anni, io quando andavo a scuola, ma non potevano andare con l'amico o un tupino. Il cartello è stato posizionato, ed è stato anche filmato su Facebook, voi dovete sapere che loro non avrebbero essere casita, e ha fatto cartelli macroscopici, in stato, perché è il livello meno frequente, col divieto di ingresso, in atti di non consoli e non esiluzionari. La ragione che non si è avvenuto, era proprio il rischio, rappresentato da un abbigliamento troppo succinto, per maschi come per donne, perché ancora i maschi erano indecenti, parimenti alle donne, il che comunque dispone, a mio avviso, anche esteticamente male. quel cartello loro lo hanno fotografato, e mi hanno, come dire, ecco come si vive al Gallupi, mi hanno completato il gatto, ma io sono stata felicissima di vedere, come diventa, come si diffonde, così lo sanno tutti. se li vedo dal Gallupi, cioè io ho fatto un giocassino di Gallupi, quindi ho soldi, se è il giocassino, grazie. Grazie a chi ha avuto il coraggio di intervenire nella protea, grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci, Sì, sì, ha dispinto, però è, diciamo che è un modo per puntare sul coraggio di ognuno di noi, per cambiare la società, insomma, per quell'ingraziamento. Grazie per averci ascoltato, ti affidiamo, diciamo, il ragionamento conclusivo, non per conclusione, a Piero Cosenzi, che è direttore del quotidiano della Carabria, grazie a tutti. Grazie a tutti. Non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, ma è un'altra cosa, ma è semplicemente la mia opinione su questa interessantissima e stimolante discussione su questo incontro, è veramente importante, ce ne fossero molti. Dirò anche qualcosa su quest'ultimo appunto, farò un'opinione leggermente diversa da quelle che mi hanno preceduto, ma vorrei dire che il problema che qui abbiamo toccato è di una vastità, come dire, storica, geografica, sociale, economica, di genere, incredibile, straordinaria. Ieri sera c'era una bella scelta televisiva, perché il Festival di Sanremo mette in moto una concorrenza notevole su altri eventi, e dovendo scegliere tra Apocalypse Now e la versione integrale o altro, per non scegliere Sanremo che è come una medicina che va adessere l'italiano ogni anno, mi sono ritrovato su un film di traici, trasmesso su traici nove, film straordinario, è stata una sorpresa, perché per caso mi sono fermato a vedere, però non la vedo più, tecnicamente peraltro perfetto, una fotografia in bianco e in nero come si usava ai tempi d'oro, un film in nastro bianco ambientato in una città, piccolo paesino, una piccola cittadina tedesca, alla vigilia della prima guerra mondiale, un paese dove, dominato da una cultura protestante, molto forte, molto chiusa, molto... che crea all'interno di questa comunità una violenza sottile, prima impalpabile, poi diventa materiale, concreta, che come qualcosa di ineluttabile, passa da famiglia a famiglia, da familiare a familiare, come una sorta di vasi comunicanti, per cui tutta questa violenza rimane compressa, perché è il risultato di una cultura che, codificata, ferma, rigida, rigorosa, e che, alla fine, si trasferisce sulle vittime che sono i bambini di questo paese, che a loro volta diventano dei carnifici di una crudeltà impaleggiata, limitata. E, insomma, un film che racconta con una crudezza, ripeto, assoluta, questo percorso psicologico, questo percorso di una comunità che poi finisce in tragedia. Se vi capiterà di vederlo, secondo me, è una esperienza importante. Ma perché mi ha colpito, perché ne parlo, ne parlo qui, perché contiene un elemento fondamentale, quando c'è il sonno della ragione e prevale l'ignoranza, e l'ignoranza non è, non è, perché lì c'è una scuola che funziona, ci sono dei codici di comportamento, dei codici culturali che funzionano, e però il risultato è un trato ne fa, il problema non è solo dell'ignoranza che è intanto più riforma, ma è anche che tipo di cultura si trasferisce, che tipo di messaggio viene trasferito. Il messaggio della imposizione, dell'intolleranza è sicuramente il germe fondamentale che alimenta qualsiasi tipo di interazione, perché è una cosa che rispetta dell'autonomia intellettuale di un altro. Questo è, secondo me, è il dato storico, non è, abbiamo vissuto in questo secolo del secolo che abbiamo alle stalle, tragedie inerrabili che qui sono state ricordate, ma non sono le uniche, non solo di quel secolo, ma le uniche della storia, la storia è fatta di violenza, di genocidi, di guerre senza evinitario, cioè, la vita dell'uomo è un conflitto, una tensione permanente che spesso si trasforma in bagno di sangue in negazione di tutte le libertà e che però poi, come ci è stato spiegato una cosa importante, la storia ogni tanto ha il suo sostituto positivo per cui poi c'è una prevalenza del bene che riesce a, come dire, mettere da parte il negativo che è avvenuto, ma è un negativo che comunque resta se non lo si approfondisce e non lo si non si entra nella ragione che va lo diranno che lo ha determinato. Allora, io credo che il problema fondamentale è della formazione del clima nella libertà effettiva su un valore autentico che significa in tutto libertà di sé ma rispetto della libertà degli altri che è un punto decisivo della nostra esistenza e va tenuto presente. Nella pensiera umana, nella storia umana ogni tanto ci sono dei, come dire, con una sorta di postulato, dei comandamenti importanti che sono il risultato dell'intelligenza del cuore. Io ne cito due, che sono di vedere come i capisari, i fondamenti proprio del nostro poter stare insieme, poter vivere e sopravvivere nel modo migliore. Uno può ricordare il mondo del credito, del cattolo, amico il prossimo tuo come te stesso, è un contiene in sé un evento rivoluzionario, sono parole rivoluzionari che hanno cambiato molto nella storia, perché contengono nel senso dell'amore, del sentimento, il rispetto ma chi non è cattolico, chi è l'acqua, chi è la nostra cultura, ha dei riferimenti fondamentali. Il famoso principio del trattato sulla doveranza di l'otero, sicuramente qualcuno di voi avrà capito a scuola, quello di dare la propria vita per consentire la libertà dell'altro anche se non si condivide neanche una virgola di quello che lui pensa, è un presupposto fondamentale per stare insieme noi qui dobbiamo partire perché le diversità, tutte le diversità sono risultate come un divinamento della coscienza dell'intelligenza dell'intelligenza umana. Io credo che ci sia un bisogno importante di dare un valore la parola la parola sta cambiando è diventata qualcosa di poco credibile al fidabile perché se ne è fatto un abuso e un uso spiegato i mezzi di comunicazione sono come dire neutrale cioè sono indifferenti il progresso tecnologico dell'uomo è nelle cose il progresso non significa che è sempre un miglioramento non significa che è regresso se poi quegli strumenti vengono utilizzati in mano pensiamo alla rete pensiamo ai social network c'è un'idea secondo me molto discutibile dell'uso illimitato e a volte scritta chiaro di questi strumenti ci sono negli occhi gli strumenti per comunicare per sapere per essere informati per trasferire delle comunicazioni ma spesso diventano altre se il pettegolezzo che si fa così per persone che si incontrano al bar in una casa finisce su un strumento che amplifica a dismisura e senza controllo può avere degli effetti devastanti la storia della ragazza di 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 legge grazie è sintomatica e emblematica di questo uso negativo criteriato sbagliato al di là del motivo che ha spinto la ragazza a rendere pubblica una piccola comunità di persone sempre che non le sia sfuggita insomma questa è al di là di quello che pensa ma è quello che accade dopo che mette in moto la logica la teoria del branco no il branco fisico diventa un branco virtuale che devasta persone storie vite senza credere allora io sono credo che tra l'altro la diffusione di queste tecnologie è stata talmente impetuosa veloce gravida che non ha fatto discutere ancora quindi in fondo sui limiti che a essa vanno dato limiti che non significa limitazione dell'albertà che significano limiti per garantire la tutela della gestione umana e della sua attività che molto spesso viene contro io nel mio lavoro a proposito non c'entra non c'entra nulla con questo diciamo di quello che abbiamo discorso ma io per esempio rifuggo molto dal usare la posta elettronica per tutto anche per opinioni per stare perché succede una cosa devastante cioè se io per un momento dico una cosa un po' pesante la scrivo via mail se io ho detto 2 quello mi risponde con 4 perché tutto immediato mentre si pensa già si è mandato già si è comunicato e allora io mi rispondo con 8 con il meccanismo che poi facilmente si può lasciare basta una mail list una cosa qualsiasi e la cosa sapete e ti vende irreparabile come per fare un esempio un po' al dito le faite una volta per cui dopo 40 morti da una parte tra l'altro non sapeva da dove era iniziata questa faita per quale motivo era scoppiata e così può succedere può succedere nel senso di lacerazione di rapporti equivoci confusione e così via a strada invece del contatto fisico secondo me guardarsi negli occhi carne d'ossa che è una delle condizioni ma anche i rapporti pistolari di una volta che consentiva mentre si scriveva una lettera la si mandava c'era il tempo di comunicare e così via ora io la finisco costando con una cosa un'opinione un'opinione di provocare tentare non c'erano le cose non c'erano le cose ognuno il problema è certo c'è una crisi del maschio perché il ruolo del storico dell'uomo è cambiato e quindi nel momento in cui la donna ha solo un ruolo mette in crisi in crisi di maschio però il problema è che gli stigli gli stigli vanno controllati io l'idea che se l'è cercato siamo separati no non sono d'accordo ognuno si veste faccia quello che crede anche la scuola cambierà il mondo cambia grazie grazie